Aveva truccato i cronotachigrafi dei camion per costringere gli autisti a viaggiare senza rispettare le pause di legge. Per questo motivo il titolare di una ditta di autotrasporti di Albenga è finito nei guai. A incastrallo sono stati gli agenti della polizia stradale che al cumile di un'indagine hanno fatto scattare un blitz nel deposito di camion dell'impresa, smascherando i trucchi impiegati per modificare i cronotachigrafi attraverso l'impiego di Magneti e denunciando il titolare della ditta e un suo dipendente. L'inchiesta era partita dopo che numerosi camionisti, da poco assunti, viste le condizioni vessatorie di lavoro loro imposte, si erano subito licenziati. Nel corso dell'operazione della polizia stradale sono state sequestrate 13 calamite di varie misure e 5 motrici che avevano subito modifiche strutturali ai cronotachigrafi, adottate fra l'altro in modo tale da essere velocemente tolte proprio per sfuggire ai controlli. Le due persone denunciate devono fra l'altro rispondere di maltrattamenti in concorso. L'operazione della polizia stradale denominata Bad Iron aveva preso il via quattro mesi fa col coordinamento del sostituto procuratore della Repubblica di Savona Giovanni Battista Ferro e la collaborazione dell'ufficio provinciale del lavoro savonese.